Seconda corsa dall'Ippodromo di Palermo e il Premio Santo Onore, una condizionata per cavalli di tre anni, la distanza è quella dei 1600 metri. In chiusura di gioco, favori per la scuderia formata da Via Colvento e Venice Beach, 2.11 la loro quota, di contro si appoggia Vlada ZG 2.91, quindi 5 il Vittoria Ciacch SM, 5.93 Vanna del Ronco. Cavalli prossimi e la partenza, lungo la corda Vlada ZG prova a respingere i due di scuderia Via Colvento e Venice Beach, ma Via Colvento è più sollecita e si porta al comando, Vlada resta in seconda posizione, Venice Beach si sistema terza davanti al numero 8 di Vittoria Ciacch SM. I cavalli entrano sulla prima curva con una prima frazione in 14 secchi. Via Colvento, Vlada ZG, Venice Beach, all'esterno è rimasta Vanna del Ronco, quindi lungo la loro paletti, Vittoria Ciacch SM. Via Colvento sembra voler correre davanti, i primi 400 metri vengono percorsi in 29.3. Si entra sulla dirittura delle tribune, Via Colvento, Vlada ZG, Vanna del Ronco che si pone ai suoi fianchi con in scia Vittoria Ciacch SM che rientra al numero 3 di Van Gogh Grab, 45.8 per i 600 metri. Via Colvento fa coppia con Vanna del Ronco, quindi Vlada ZG e Vittoria Ciacch SM, Venice Beach e Van Gogh Grab. I cavalli arrivano al mezzo miglio percorsi dalla coppia di testa in 1, 2 e 5. Via Colvento sempre alle prese con Vanna del Ronco, quindi Vlada ZG a seguirne le mosse con ai fianchi sempre Vittoria Ciacch SM. Il chilometro viene percorso in 1, 18 e 1. Varga del Ronco aumenta la sua pressione su Via Colvento, Vlada è sempre nella loro scia, perde contatto Vittoria Ciacch SM. Si arriva ai 400 finali, parziale sulla retta di fronte in 14 e 7. Il discorso Vittoria sembra chiuso fra frazzi 3, Via Colvento, Varga del Ronco e Vlada ZG. Insiste Varga del Ronco su Via Colvento, comandata a braccia e frusta da Giuseppe Porzio, Vlada ZG ancora lì dietro senza sapere cosa fare. Testa a testa tra Via Colvento e Varga del Ronco che prende la meglio ai 100 finali. Al suo esterno scatta Vlada ZG, ma è troppo tardi perché Varga del Ronco si impone a Vlada ZG a Via Colvento sul mio cronometro 2, 3, 1, 16, 8. La media ufficiosa di questa corsa, Varga del Ronco, i colori della scueria, Gegors, il training di Francesca Croce, la guida di Gaspare Lo Verde, 5, 92 e la sua quota. Primo successo in carriera e quindi primo successo sulla pista per Varga del Ronco che si è messa in evidenza con un bel percorso esterno. Negli ultimi metri si difende dall'affondo troppo tardivo di Vlada ZG, terza resta il numero 2 di Via Colvento. Per un arrivo ufficioso che vede il 4 di Varga del Ronco al primo posto, l'1 di Vlada ZG al secondo e il 2 di Via Colvento al terzo. È tutto lì nella regia. Grazie a tutti.